Benvenuti in un nuovo tutorial per l'utilizzo del playbook 5.0. In questo video vediamo come rimuovere un giocatore dal campo. Procediamo con l'eliminazione del giocatore in difesa con la maglia bianca. Nella lista di giocatori si insieme nel player 02. Vedete come il giocatore risulti ora evidenziato anche nel diagramma con un allune rosso intorno. Clicchiamo ora sul tasto meno. Il giocatore bianco è stato ora eliminato. Come vedete però ora risulta selezionato il giocatore in campo con la maglia blu. Per deselezionarlo cliccate sul bottone deseleziona. Grazie per la visione!